Il treno regionale 4330 di Trenitalia, proveniente da Limone, è diretto a Fossano, delle ore 14.02, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 4330 di Trenitalia, proveniente da Limone, è diretto a Fossano, delle ore 14.02, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 4330 di Trenitalia, proveniente da Limone, è diretto a Fossano, delle ore 14.02, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Altri attenzioni, signor Vausplatt. Il treno regionale 4330 di Trenitalia, arriva in previso 1357, on providence di Trenitalia, destination di Fossano, delle ore 14.02, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Votre attenzioni, s'il vous plait. Il treno regionale 4330 di Trenitalia, proveniente da Limone, è in destinazione di Fossano, delle ore 14.02, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Eloignez-vous di la linea gialla. Il desserre tutte le gare. Livre attenzioni, più stress. Dattannelia, dell'in級imento! Per laaria. Allora! Grazie a tutti.